e arriva anche jacopo cerutti eccolo qua il nostro jacopo ciao jacopo ben arrivato vuoi toglierti il casco allora com'è andata questa marathon è due giorni che non vi vediamo siete in giro a zonzo per queste lande desolate non è andata granché bene però vabbè dai che è successo jacopo ma ieri ci siamo persi un po in una nota che non c'era cap abbiamo buttato via un sacco di tempo oggi invece ho finito la benzina e non riuscivo a trovare nessuno che me la desse perché erano tutti tirati è andata così dai sto da car non è non ha ingranato tutto alla perfezione però sono contento dai manca un giorno anche un giorno e quindi poi il chi dia ci aspetta e ti aspetta grazie a tutti grazie 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 mille